Mr. Cari, il Barletta ha iniziato nel migliore dei modi questa partita, poi due episodi sfavorevoli e ne hanno deciso le sorti? Sì, direi che hai detto tutto, anche se noi poi probabilmente abbiamo peccato un po' in uscita dove potevamo fare qualcosa in più, dove di solito facciamo qualcosa in più. Siamo stati un po' troppo dietro, anche se la partita era tranquilla, rischiavamo poco e niente, poi c'è stato questo episodio di questo calcio di ricorda che ha un po' cambiato l'inizia della gara e l'espulsione poi ha fatto la differenza. Ammalgrato tutto potevamo andare in vantaggio con la palla clamorosa di Schettel a due meri della porta per andare in vantaggio e chiuderla definitivamente. Secondo lei il Barletta forse è entrato nella ripresa in campo un po' appagato? No, ma in maniera più assoluta, ripeto, fino al calcio di ricorda episodi particolari dove abbiamo dato l'impressione di poter prendere gol, non mi sembra che ci siano stati. Pane non ha toccato un pallone che un pallone, quindi ci difendevamo, obiettivamente eravamo un po' troppo bassi, però con ordine, senza rischiare assolutamente nulla. Sappiamo che durante la rifinitura Sicignano ha accusato un problema ad una spalla, quali sono le condizioni del giocatore? Adesso è da verificare, i medici domani verificheranno questo infortunio, speriamo non sia nulla di grave, perché insomma ci dispiacerebbe perdere il ragazzo a lungo tempo. Eugenio Corini, il Frasinone inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno, il suo aveva dato l'onore e il merito di averci creduto fino alla fine. Sì, sì, abbiamo provato, abbiamo anche rischiato qualcosa, perché il Barletta è una squadra importante, che ha fatto un'ottima partita, però con lo spirito e con la voglia di reagire alle difficoltà siamo andati oltre l'ostacolo e come si suol dire, secondo me alla fine la squadra ha meritato di vincere questa partita. Forse l'unico neo del Frasinone visto quest'oggi è stato l'approccio alla gara, un primo tempo non esaltante, a cui la sua squadra comunque ha saputo reagire nella ripresa. Invece io penso che abbiamo iniziato bene la gara, poi la squadra ha subito questo gol brutto su una ripartenza a loro, è andata un po' in difficoltà, ma invece poi ha comunque avuto pazienza, quel Barletta schierato pronto a ripartire, abbiamo costruito gioco, ci abbiamo provato, abbiamo avuto pazienza e anche questo lavoro fatto nel primo tempo è servito per poi stancare l'avversario e a fare una ripresa sicuramente più intensa e più vogliosa. Uno dei protagonisti di questa meritata vittoria del Frasinone è Davide Carrus. Sì, diciamo che oggi abbiamo espresso una buona mole di gioco, la vittoria è strameritata secondo me, abbiamo preso un gol sciocco come ci capita spesso, però poi siamo stati molto bravi a reagire al secondo tempo e ottenere una vittoria meritata. Questa metamorfosi tra il primo e il secondo tempo, cosa è cambiato nella ripresa? Guarda, io ti dico la verità, secondo me il primo tempo abbiamo fatto una grande mole di gioco, però non siamo stati molto bravi a concretizzare, poi sai, prendere un gol nella situazione psicologica in cui stiamo ci ha un po' tagliato le gambe perché veniamo da due mesi senza vittoria. Il secondo tempo siamo ricompattati, il mister ci ha dato di stare tranquilli, ci ha dato una grossa mano allo spogliatoio e siamo entrati in campi decisi e cattivi. La gara è decisa da due episodi, il rigore e l'espulsione di Pisani, onore e merito a voi che ci avete creduto in questa vittoria, in questa rimonta? Sì, sicuramente non era facile come ti ho detto per la nostra classifica, la nostra condizione morale in cui stavamo, dunque un po' la fortuna ci ha aiutato, in altre occasioni non è stato così, dunque ci dà slancio e ottimismo per il futuro. Impressioni su questo Barletta? No, ma il Barletta è un'ottima squadra, l'ha dimostrata anche oggi che nelle ripartenze è micidiale, ha i giocatori molto veloci davanti, sono compatti in difesa, dunque sarà una delle protagoniste fino alla fine.